Il Sipario apre il 20 febbraio e chiude l'8 marzo. La Biennale di Venezia festeggia i primi 40 anni del Festival Internazionale del Teatro, portando in scena un ricco e quanto mai vario cartellone. Diretto da Maurizio Scaparro, il festival, dedicato al Mediterraneo, apre in contemporanea a Venezia e Mestre con due spettacoli. Al Teatro Goldoni, Stefano Valanzuolo e Davide Livermore portano sul palco l'operetta di Bernard de Zogheb, Le Sorelle Bronte. Altoniolo, in contemporanea quindi, la libra versione di un'opera goldoniana, Argelino Servidor de Dohamos. Qual è il filo conduttore di questo programma? Spero che sia l'intelligenza, in realtà il filo conduttore è il Mediterraneo, è un tema che ci siamo dati, si è dato anche al laboratorio che abbiamo fatto come biennale l'anno passato. La voglia di parlare le diverse lingue del Mediterraneo che vanno dall'italiano evidentemente. Manca l'inglese stranamente, ma non dobbiamo piangere molto su questo, almeno per il Mediterraneo. Naturalmente greco, naturalmente lo spagnolo, naturalmente le lingue del Maghreb, le lingue arabe. L'anno scorso vennero parecchi giovani palestinesi, come lei ricorderà. Il Mediterraneo è la base, da quello nascono spettacoli, molti dei quali sono stati costruiti nel laboratorio e quindi hanno matrice veneta o veneziana e naturalmente altri internazionali non sono stati scelti da noi, provocati da noi, a partire dal leone d'oro che viene dato a Irene Papas perché è attrice mediterranea, guarda caso nella confusione dei linguaggi che appartiene anche a voi, è cinema e teatro. Il programma del 40esimo Festival Internazionale del Teatro si avvale anche di gran parte dei lavori ispirati direttamente dai laboratori che lo scorso novembre hanno costituito il Laboratorio Internazionale del Teatro. Artisti e nomi di spicco del pensiero internazionale si sono incontrati con studenti e giovani attori interessati a conoscere il mondo del teatro. Ne sono nati alcuni video realizzati dagli studenti del Laboratorio Video che raccontano come sono nati alcuni spettacoli di questo festival del teatro.